Per la prima volta a Bari, CGL e Cisle Will, insieme a 25 tra associazioni, organizzazioni e comunità impegnate nel campo dell'immigrazione, sottoscrivono la piattaforma per l'inclusione dei cittadini migranti nell'area metropolitana di Bari. Tanti gli obiettivi della piattaforma, fra cui riattivare ed incentivare gli strumenti di partecipazione dei migranti alla programmazione delle politiche regionali. Sì, questo è uno degli obiettivi, insieme ad altri che coinvolgono maggiormente l'area metropolitana, tra cui la riattivazione dei consigli territoriali dell'area metropolitana. Sono tutti obiettivi che noi poniamo in essere per il riconoscimento alla base del diritto di cittadinanza di queste persone, attraverso cui poi si sviluppa naturalmente il riconoscimento dei diritti al welfare, ai servizi, alla sanità. Sono tutti passi fondamentali ed essenziali per poter praticare realmente politiche di inclusione necessarie oggi non solo in Puglia, non solo a Bari, ma su tutto il territorio nazionale per respingere politiche sbagliate, di protezionismo, politiche xenofobe che non fanno altro che separare le persone, alimentare eventi di guerra e soprattutto intendere le differenze come un pericolo e come un problema per tutti. La Puglia è sempre stata una terra non solo di immigrazione ma anche di integrazione. Pensiamo allo sbarco della nave Vlora, pensiamo anche alla legge contro il caporalato che parte da questa regione. Però si è sempre visto il fenomeno in termini emergenziali, quindi che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato, è mancata la parte di pianificazione. Naturalmente è molto più semplice, tra virgolette, affrontare il tutto da un punto di vista emergenziale perché sono misure tampone che poi limitano il problema ma non si preoccupano di avere una visione. Questa è un'operazione difficile, titanica, ma sono convinto che la sensibilità che anche oggi è stata dimostrata da parte delle realtà del territorio così come sono presenti anche nelle altre province della Puglia ci permetterà di avere una buona possibilità di pianificare. I consigli territoriali rappresentano per noi un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza fondamentale perché mettono al centro anche l'attività delle istituzioni, l'attività dell'amministrazione e noi rispetto a quell'attività vogliamo svolgere una funzione che sia di supporto, di rafforzamento rispetto a politiche di coesione e di inclusione che si possono sicuramente sviluppare laddove siamo tutti insieme.